Bene, siamo di nuovo in diretta, bentornati a tutti i partecipanti e proseguiamo questo incontro interattivo di astrologia murpurghiana con la prossima relatrice che è Vezia Rode. Vezia Rode è un'astrologa di lunga data, è fra le primissime allieve di Lisa Murpurgo che ha conosciuto al primo congresso di astrologia del Cida nel 1975 a Milano, non è un astrologo professionista ma una studiosa e un'appassionata ricercatrice. Ha partecipato a congressi fin dal primo di Laveno con la sua ricerca sul punto della vela e molti altri successivamente, essendo molto attiva e partecipe con l'associazione. È stata anche presidente della nave dei Feaci nei quattro anni fra la presidenza di Monica e la presidenza mia, lì tra il 2010 e il 2014. Monica l'abbiamo già presentata precedentemente, ve la ripresento per chi si fosse collegato soltanto adesso. È sagittario, ascendente pesci, è una giornalista, traduttrice, astrologa e operatrice olistica, ama interessarsi di astrologia che conosce da quando aveva 13 anni e pochi anni dopo conobbe anche l'opera di Lisa Murpurgo. È stato un colpo di fulmine, ma ci vorranno diversi anni prima che questa professione diventi oggetto di uno studio sistematico. All'inizio degli anni 2000 si unisce alla nave dei Feaci e nel bienio dal 2007 al 2010 è stata appunto presidente dell'associazione. Continua gli studi con diverse ricerche al suo attivo e insegna astrologia olfurgiana. Buon proseguimento, do la parola a Vezia che ci parlerà del quinconce, questo sconosciuto. Grazie. Grazie anche a Monica per il lavoro che hai fatto prima, che ho combinazione, ha messo anche in evidenza un particolare disegno che io porterò anche in evidenza, proprio per il quinconce. Intanto sono contenta che questo convegno si svolga da remoto, perché ho già visto che soltanto nel leggere il titolo qualcuno era pronto a buttarmi i pomodori come minimo, quindi da remoto non lo possono fare. Mi salvo. Sapevamo che avrebbe suscitato parecchio. Lo sapevamo, lo sapevamo infatti. Comunque vorrei appunto tranquillizzare i benpensanti per dire appunto che per me è stato, anche per me è stato combinazione una specie di colpo di fulmine il quinconce, che da quel momento mi ha veramente tormentato. E a questo punto dirò anche il perché. Allora, l'aspetto intanto è 150 gradi, chiamato quinconce o quinario, non viene mai o quasi mai considerato, soprattutto dalla scuola Morpurgo, almeno dagli allievi e studiosi più giovani, che hanno comprato le edizioni più recenti della introduzione all'astrologia e decifrazione dello zodiaco. Ma io sono una delle primissime allieve e avevo il volume uscito nella prima edizione e c'era l'aspetto di quinconce regolarmente segnalato tra gli aspetti dei pianeti. In seguito Lisa, per semplificare, aveva pensato di considerare solo gli aspetti maggiori, quindi derivanti dai dodici, quindi semisestile, sestile, quadrato, trigone e opposizione. Bando quindi alla miriade di aspetti minori, che ce ne sarebbero tantissimi, semiquadrati, sesquiquadrati, quintivi, sestivi, e tutto quello che offriva la multiforme astrologia alla portata di tutti. E io forse non avrei mai fatto caso al quinconce, se non mi fossi imbattuta durante lo studio su Helen Keller, presentato a Torino proprio nel 2011, nel quinconce tra Urano e Giove, del 14 aprile del 1866, che era l'unico aspetto formato da Urano nel tema natale di Anne Sullivan, la teacher, cioè l'insegnante. Nel film famoso dove Anne Bancroft vinse l'Oscar, era chiamata Anna dei Miracoli, che insegnò alla donna sordo cieca più famosa del mondo a leggere, scrivere e parlare, perché non era muta, usando le sue mani. Urano, mani, Giove, occhi e bocca. L'arrivo di Anne nella vita di Helen Keller fu definito il giorno del compleanno della sua anima, e con Anne Sullivan trascorse tutta la vita, fino alla morte di quest'ultima. Ma anche se le sopravvisse tanti anni, 32 se non sbaglio, erano state così unite nella storia e così famose anche, che sono state sepolte nella stessa cattedrale. Ricordo il rammarico di non poterlo mostrare a Lisa, perché era mancata ormai da 13 anni, e fu davvero grande. Ero convinta, infatti, e lo sono tuttora, che messa di fronte a un'evidenza, Lisa avrebbe ridato un posto tra gli aspetti a quel quinconce bandito, forse con troppa fretta, troppa leggerezza. E poi, come non accorgersi di quel vuoto che salta subito all'occhio se si considera che partendo da un pianeta in un punto qualsiasi dello zodiaco, tanto a destra che a sinistra, procedendo di 30 in 30, si incontrano via via i semisestili, i sestili, i quadrati, i trigoni, poi niente, e si arriva all'opposizione. Ma perché mai? Forse i pianeti non transitano anche da lì e saltano direttamente al segno successivo? Effettivamente, sul quinconce aleggia un'aria di mistero, ma soprattutto ci si chiede come interpretarlo. Sarà buono? Sarà cattivo? Sarà cattivo perché vengono messi in relazione due segni di elemento contrastante, come nel quadrato, ma anche nel semisestile, attenzione, che viene considerato generalmente buono a tutti gli effetti. E questo è l'interrogativo che rende diffidenti nei suoi riguardi, nel dubbio, quindi meglio ignorarlo. Non è nemmeno facile notarlo. Per quei computer che si permettono di calcolarlo, l'orbita massima che gli viene concessa è un grado, quindi è un aspetto che quando lo si trova è precisissimo. E anche questo non mi sembra giusto, visto che aumentando la distanza tra i pianeti, in genere le orbite degli aspetti si allargano. Quindi si parte da due per il semisestile, che è solo 30 gradi, 4, 6, 8, 10, e il quinconce ne ha ben 150. E perché dare al quinconce soltanto un grado? Vorrei far notare che se gli concedessimo almeno, tra virgolette, due gradi di orbita come il semisestile, e se lo meriterebbe, anche Lisa Morpurgo avrebbe un bel quinconce. Tra che cosa? Tra Urano e Nettuno. Si può far vedere? Sì? L'avevo mandato, non so se ce l'hai. No, non ce l'hai. No, invece, io i grafici ho soltanto questi due, figura uno e figura due. Ah, credevo che Monica ti avesse mandato. Vabbè, sì. Adesso allora controllo io con Monica. Ce l'aveva Monica, sì, glielo ho mandati a lei. Comunque, tra Urano a 17 gradi e 04 dei pesci, Nettuno a 15 gradi e 31 del leone, avrebbe soltanto un grado e 27 di orbita, cioè neanche un grado e mezzo. E così, anche il suo anno di nascita, il 1923, spicca non solo per il trigono a stella, ma anche per un particolare quinconce, che unendo le energie di due pianeti come Urano e Nettuno, certamente ha stimolato la sua fervida immaginazione, le folgoranti intuizioni e il suo interesse per l'astrologia. Ma, oltre all'aspetto generazionale che coinvolge i nati nel suo anno del 23 e anche i nati in anni precedenti e seguenti, quindi da una particolare impronta a quegli anni 20, Lisa si ritrova anche il coinconcio tra Mercurio e Giove, il primo a 10 e 45 dei gemelli e il secondo a 12 e 21 dello scorpione. E qui il coinvolgimento di un pianeta veloce personalizza la sua dialettica, che si riveste dell'arguzia un po' pungente e finemente plutoniana, comune ai due segni, e quello che io definirei la ciliegina sulla torta. Ricordo, come mi avesse colpito anche il coinconcio tra Mercurio e Giove, tra riete vergine, unico aspetto che forma Giove, altrimenti isolato, nel tema di Franco Battiato, e le parole delle sue canzoni sono decisamente fuori dal comune. Sottolino il fatto del pianeta isolato, perché? Perché a Lisa non piacevano i pianeti isolati, diceva che erano come mine vaganti nello zodiaco e quindi di trovare un aspetto qualunque, anche addirittura con la cuspide di una casa, pur di dare qualche relazione, qualche significato in più a un pianeta isolato. Ecco che qui, prima il pianeta isolato nel tema di Hans Sullivan, poi adesso il pianeta isolato nel tema di Battiato, se vogliamo. Ci si può davvero chiedere se sia da considerare negativo? Mi pare, dagli esempi appena citati, di poterlo escludere, ma cercherò di trovare un modo per poterlo valutare secondo i pianeti che lo formano e i segni zodiacali coinvolti. Per cercare di stabilire come possono funzionare questi aspetti, ho provato a pensare quali relazioni corrono tra i segni in cui inconce naturale, come aveva fatto a suo tempo nella ricerca su Nettuno e la storia della musica, notando le relazioni armoniche e naturali tra pianeti, cioè Giove e Marte sono sempre in trigono da tutte le loro sedi, culminando con la congiunzione di Marte esaltato e Giove in trasparenza e capricorno, relazione che spesso evidenzia i leader in molti campi, lavoro, politica o sport. Lo stesso per Plutone e Nettuno, il cui trigono ha favorito il secolo dei Lumi e il cui se stile ha caratterizzato buona parte dai nati nel secolo scorso e si sta a tratti ripresentando anche oggi tra capricorno e pesci. Vorrei però ricordare come nella dimostrazione di Lisa, nelle triangolazioni tra pianeti paralleli opposti, si evidenziano i paralleli maschile e femminile, dove hanno sede tutte le pulsioni che regolano il segreto della riproduzione umana, con i triangoli isosceli che si intrecciano tra le sedi di X e di Plutone, già visti prima, e che hanno alla base un sestile con la punta dall'altra parte dello zodiaco e sono proprio tra segni in cui inconce. Qui faccio una breve pausa per dire come mi sono resa conto, via via, e me ne sto rendendo conto ancora andando avanti e proseguendo in questo esame, che il cui inconce è veramente un aspetto, ma io parlo di segni, è un aspetto che relaziona l'umanità in tutti i sensi, perché, tanto per dirne una, il mio sole a 6 gradi e 30 del sagittario è in perfetto quinconce col sole di Ellen Keller a 6 gradi e 30 del cancro e sono rimasta stupita dopo a rendermene conto, cioè il nostro sole è proprio una relazione di quinconce. Nello stesso caso io ho fatto un'altra relazione su un'altra grande donna che mi ha colpita, cioè queste cose che ti colpiscono, che ti prendono al cuore, Oriana Fallacci, è nata il 29 giugno, cioè ha il sole in cui inconce anche lei con il mio, e poi andando a ripensarci, luna, la luna di Lisa, dov'è? 6 gradi del cancro, non è per caso in cui inconce anche il suo, col mio sole, oi boh, basta, andò davanti. Io direi che comunque i segni in cui inconce, quelli dei paralleli maschile e femminile, sono i segni dove il coinconce funziona meglio degli altri. Ecco Lisa Morpurgo, con i suoi due coinconce che io ho evidenziato, cioè Urano-Nettuno e Giove-Mercurio. Quindi tra la casa prima e la casa nona a combinazione, quindi quel Nettuno in prima ha ancora un effetto più forte, secondo me, con quel inconce con Urano. Così come Giove in casa quarta, quindi in patria, nella sua casa, e nella sua casa faceva lezione, attenzione, Giove in quarta, al trigono di Mercurio, cioè al trigono, chiedo scusa, in cui inconce con Mercurio. Ed ecco che la sua dialettica è formidabile e lo sappiamo. Lo sappiamo tutti e l'abbiamo apprezzata tutti, da questo punto di vista. Ma è anche un po' feroce. Quindi attenzione, undicesima casa Mercurio, quindi le amicizie, a causa, se qui vogliamo, l'altra faccia della medaglia, della sua parlantina così acuta, ma anche a volte così un pochino feroce, può aver ferito qualcuno e perso qualche amicizia. Ecco, possiamo togliere se vogliamo. Allora, ecco ci ritroviamo con l'Ariete, che si collega allo Scorpione e alla Vergine, perché per memoria il quinconce è sempre nei segni che precedono e seguono il segno zodiacale opposto, ovviamente. Ariete e Scorpione hanno in comune Marte e Plutone e una relazione tra i due segni avrà una sfumatura particolare. Con la Vergine la relazione è più sfumata, ma esiste, tanto con Y e Marte in trasparenza. I gemelli hanno il loro quinconce nello Scorpione e nel Capricorno, quindi troviamo un legame con Plutone e Mercurio, che qui si scambiano le esaltazioni, e un Oranio in trasparenza, e l'esaltazione di Plutone è qui in conce con Marte e che si esalta in Capricorno. Il Toro, nel Sagittario e nella Bilancia, ritrova buoni rapporti con Venere e X e Giove. Il Cancro, nel Sagittario e nell'Aquario, trova nel primo la Luna del sistema B e nulla in Aquario. Il Leone, nel Capricorno e nei Pesci, e anche qui non ci sono affinità, anzi, forse in questo caso possiamo intuire qualche problema. La Vergine nell'Aquario e nell'Ariete, e qui ritroviamo Urano e Marte, lo Scorpione nella Riete e nei Gemelli, si ritrovano Marte, Mercurio e Plutone, il Sagittario nel Toro e nel Cancro, scambio di Luna e Venere e X, il Capricorno nei Gemelli, sempre Urano, e nel Leone poche affinità. L'Aquario nel Cancro, nulla, nella Vergine c'è Urano, i Pesci nel Leone e Bilancia, qui c'è Nettuno. Una riflessione, secondo me i Quinconce funzionano ancora meglio quando coinvolgono i pianeti signori del soggetto esaminato e le loro caratteristiche si riflettono bene anche sulle case coinvolte, almeno là dove ho potuto verificare personalmente nei casi che conosco bene, trattandosi di amici da una vita o familiari. Farò vedere come un Quinconce tra Urano e Nettuno aiuterà un Aquaria a vincere una medaglia d'oro olimpica nel Fioretto. Come nel caso di trigoni o di quadrati che coinvolgono pianeti lenti e che durano nel tempo, caratterizzando interi periodi storici, una curiosità legittima è controllare se un Quinconce abbia in qualche modo influenzato periodi particolari. Nel caso di Helen Keller e Hans Sullivan, Giove Urano ha messo l'accento sui numerosi casi di cecità di quel periodo e sulla presa di coscienza che bisognava intervenire per risolvere i problemi legati a questa infermità. Vedi la campagna Sight First, la vista prima di tutto, iniziata dai Lions grazie all'invito di Helen alla loro rivolta in un congresso e tuttora, nel 2021, punto di forza dai Lions di tutto il mondo. È passato quasi un secolo. Iniziata una ricerca sui Quinconce presenti nei personaggi del mio archivio, ho potuto fare una prima osservazione, molto frequente negli aspetti con il Sole e il Quinconce con la Luna, ma è ovvio, data la velocità della Luna. Ma qui si evidenzia un fatto, si tratta di personaggi che a questo titolo si trovano in un archivio astrologico e un Quinconce sulle Luna può giustamente mettere in risalto una personalità alla ribalta. Tra Rieta e Scorpione è una bella combinazione, direi, con il Sole che si esalta e la Luna che si ritrova con i suoi alleati, alleati del Sole, naturalmente, ma nell'elemento acqua, comunque. Un'altra curiosità, il computer li segnala e quindi non ho potuto fare a meno di notarli. Molti Quinconce con il segno ascendente e il mezzocielo e il primo che mi è balzato agli occhi è stato il Quinconce della Luna con l'ascendente di Neil Armstrong, cioè il primo terrestre che sulla Luna ha messo piede. Non so, a me ha fatto un certo effetto e quindi il Quinconce di Luna naturalmente ci sono altri, perché uno faccia l'astronauta e finisca sulla Luna ci possono essere tantissimi altri effetti, però la Luna è proprio il Quinconce con l'ascendente e mi sembra quello che ascende per arrivare sulla Luna e io sarò un'ingenua saggettaria ma questa cosa mi ha colpito. Ecco, perdonatemi. E c'è un altro Quinconce importante tra urano in cancro e l'ascendente acquario di Marie Curie, prima donna scienziata e unica finora a vincere ben due premi Nobel. Se poi ci permettessimo di allargare l'orbita almeno a tre gradi, la stessa avrebbe anche il Quinconce tra Nettuno in Ariete a 12 e 27 e il Sole in Scorpione a 14 e 38, quindi due gradi e pochi primi. Anzi, io direi che tre gradi di orbita mi sembrano il minimo per il Quinconce data la sua distanza di 150 e allora sì, la troveremo una bella schiera. La mia ricerca si è basata soprattutto sull'orbita minima perché era quella che avevo sul computer e già ho trovato numerosissimi casi ma allargando da poco lo sguardo a uno o due gradi in più ecco che mi sono imbattuta proprio negli esempi citati. Mi ha colpito tra le altre cose il Quinconce tra Marte e Plutone nel tema di Paola Borboni attrice di teatro molto longeva capostipite del nudo in scena e delle nozze con un uomo molto più giovane di lei nata il primo gennaio del Novecento quindi il Quinconce era tra Capricorni e Gemelli e curiosamente ho pensato come quell'inizio del secolo potesse avere già in noce un germoglio di guerra e in questo caso il Quinconce poteva suonare come un allarme anche Enrico Fermi papà della bomba atomica aveva lo stesso Quinconce cioè Marte e Plutone e in più uno tra il Plutone ascendente ma tra lo Scorpione e i Gemelli poiché i Quinconce tra pianeti lenti ovviamente coinvolgono tutti i nati negli stessi anni ho preferito soffermarmi a guardare quelli che si formano con i pianeti veloci o quelli che ne ospitano più di uno e in calce ci sarà un elenco che potranno leggere gli interessati e la ricerca ma che ora porterebbero via troppo tempo mi accontenterò di segnalarne alcuni Christopher Reeves attore famoso per aver interpretato Superman e poi immobilizzato per una caduta da cavallo credo sia stato il primo di cui tre Quinconce avevano suscitato in molti astrologi timore e curiosità Marte-Urano Sagittario-Cancro Giove-Nettuno Toro-Bilancia e Saturno-Mezzo-Cielo Bilancia-Toro inutile sottolineare che tutti i rapporti tra Marte-Urano possono spesso indicare incidenti e in questo caso il Quinconce non fa eccezione mentre Giove-Nettuno sono ottimi per il successo di un artista nel Saturno col Mezzo-Cielo sembra rappresentare il pericolo relativo alla decima casa cioè proprio la caduta due campionese olimpiche ecco Irene Camber nel Fioretto oro nel 1952 al Quinconce tra Urano e Nettuno come Lisa ed è del 1926 e lei in questo caso è il Quinconce perfetto proprio nel 26 cioè se nel 23 c'era ma con un grado di distanza in questo caso è perfetto Nettuno avrebbe avuto solo opposizioni e un quadrato nel suo tema nel suo cielo natale ed è una donna imprenditrice molto stimata prima donna italiana a laurearsi in chimica industriale e anche diplomata in pianoforte il Quinconce con Urano segnala l'intuizione giusta e i riflessi pronti per porgere la stoccata vincente essendo un acquario per lei questo particolare rapporto tra pianeti è doppiamente buono aggiunto al trigono Saturno-Urano nel cielo altra ciliegina sulla torta ed è un ultra novantenne in Gambissima mentre Sara Simeoni olimpionica nel salto in alto nell'ottanta sta ritrovando un momento di grande popolarità nel suo tema c'è un doppio Quinconce tra la congiunzione Marte-Giove in toro e la congiunzione Saturno-Nettuno in bilancia e anche Giove ascendente lei è del 1953 Marte-Giove in relazione con Saturno-Nettuno è una coppiata di pianeti che si aiutano vicendevolmente e il suo successo nello sport e nella vita lo dimostrano dunque un Quinconce beh questi sono Quinconci un po' particolari Mercurio-Saturno tra Scorpione-Gemelli e Marte-Plutone anche lui tra Sagittario e Toro accentuano i percorsi travagliati di Oscar Wilde che ne sottolineano anche il genio se vogliamo ho voluto aggiungere in qualche tema i transplutoniani e ho notato come in Einstein Sedna a 2 gradi e 32 fosse in congiunzione stretta con Mercurio-Saturno a 3 gradi in ariete e tutti e 3 in Quinconce con Urano in vergine a un grado e 70 se considerassimo l'ipotesi di Sedna-Y tempo mi sembrerebbe abbastanza significativo qui dovrei dire che nessuno ha più fatto ricerche su Sedna considerandola come Y ed è venuto fuori un altro pianeta Kronos o meglio cosiddetto un K eccetera eccetera con numeri vari per me Sedna io continuo a considerarlo e tra l'altro se Eris è inquadrato a Plutone Sedna in Trigono e in fondo in fondo Sedna proprio di nomi gli hanno dato il nome di una dea Inuit quindi del ghiacci non so perché ma il fatto che il problema climatico sia molto dovuto anche allo scioglimento dei ghiacci mi lascia mi fa pensare diciamo che Plutone con il suo calore sotterraneo forse oltre a riscaldare l'atmosfera riscalda anche il sottosuolo e non solo fa venire fuori i vulcani ma fa anche sciogliere i ghiacciai ma Anpassan Sedna in Toro passando dalla prima alla seconda e alla terza decada ha fatto uscire Toro cinema dei bellissimi film sull'era glaciale e l'ultimo che è nell'ultima decada proprio il Toro voce quello Frozen stupendo con delle canzoni magnifiche vabbè chiusa parentesi e qui un'ulteriore osservazione riguarda i segni nei quali si formano le coppie per caso ho notato che mia cognata Cancro del 19 luglio aveva il sole in perfetto quinconce con il marito Aquario nato il 14 febbraio un'altra coppia giovane che conosco è sempre Cancro Aquario col sole in quinconce perfetto un'amica di infanzia si sposò giovanissima con un bebè in arrivo era vieta e sposò uno scorpione ma se ci guardiamo attorno almeno qui in Italia troviamo la combinazione Toro bilancia di parecchie coppie Albano Romina Power Fedez Chiara Ferragni Todd Hillary Blasi e sono proprio i segni in cui in concia intrecciarsi nella vita oltre che nello zodiaco e ho anche un'amica carissima è nata il 29 aprile quindi Toro io il 29 novembre e quindi io vi invito a controllare i nati nel vostro stesso giorno nel segno al quinconce forse scoprirete come certi incontri sono stati importanti nella vostra vita o nella vita di qualcuno che conoscete certo in maniera speciale particolare ma siete ovviamente liberi di non essere curiosi padronissimi di ignorare totalmente il quinconce in tutti i suoi aspetti grazie dimmi Monica hai qualcosa da chiedermi ah beh qui ci sono degli esempi particolari forse leggermente più ah sì Clint Eastwood come no un esempio Sole e Saturno facciamolo vedere anche Clint Eastwood avrebbe avuto il Sole isolato carriera lunghissima soddisfazioni enormi invaliare da età e lui c'è da gemelli capricorno guarda caso eterno giovane e un Sole quinconce a Saturno Sole isolato altrimenti e senza aspetti con nulla non so se ne avevo mandati altri ma non mi pare no un attimo ah il bellissimo di lui anche Marte Nettuno l'unico trigono tra l'altro del suo tema è Marte Nettuno a parte poi Plutone ascendente forse sì Marte Nettuno e ricordo che è stato è un grande musicista molte colonne sonore dei suoi film sono fatte da lui proprio non so non tutti lo sanno ecco lo dico soltanto così per informazione un attimo solo Vezia che ha un problema tecnico Monica con l'audio non ti sentiva non rispondeva perché non ti sentiva adesso sta entrando di nuovo nella discussione vedo se riesco a inserirla nel frattempo ti posso comunicare alcuni dei commenti che ci sono stati allora ci sono dei commenti un po' critici ovvio e questo è uno peccato che il guancoccio non esista ma come fanno a dire che non esista tutto può dire meno che non esiste esiste che tu non lo voglia considerare è un'altra questione ma esiste come anche questo quinconti ascendente o discendente ha lo stesso valore in quanto prima e dopo l'opposizione dei due pianeti questo e perché no per questo è un dettaglio veramente proprio diciamo non viene spesso considerato in termini molto chiaro c'è l'aspetto di ascendente o discendente nemmeno per i trigoni o per gli altri ma ecco quindi è un fattore che non hai non hai preso un fattore direi che è importante per gli eventuali transiti futuri cioè si può considerare tale appunto se il trigono o il quadrato arriva arriva a fare il trigono o se il quadrato arriva a fare il se stile cioè dipende da dove si trova certamente o se riesce a fare qualcosa in questo caso questo è un altro momento che arriva e beh non posso aspettarmi d'altro da Raffaella o da Gabriele capisco al base di queste l'ignoranza del studio matematico giocale Morpurghiana questo un altro ancora beh lei ecco chi ce l'ha se non altro può io non ne ho tra l'altro io mi sono mi sono appassionata a questa cosa senza avere qui in concio nel mio tema tra aspetti planetari ma siccome ho visto che ce ne sono diversi invece soprattutto dai nati proprio nel tuo anno Vincenzo come in azione nei tuoi anni ci sono i qui in concio e quindi se qualcuno vuole studiarseli proprio per vedere hai la ciliegina sulla torta in moltissimi casi un attimo che sto cercando di capire con Monica quello che succede questo è un commento positivo ma non so da chi è stato inserito perché purtroppo compare con me l'amministrazione è qualcuno degli organizzatori ma non so purtroppo qui non è firmato e questo è l'altro commento di Gabriele di Baccio ma che superare è stupido mi spiace non voglio superare nessuno è un argomento un po' critico indubbiamente sai cosa posso dirti io che secondo me Lisa sai cosa mi avrebbe detto che peccato che non ci ho pensato prima o che peccato che non l'ho visto prima questo purtroppo non lo possiamo sapere perché come come tu stessa hai detto è un aspetto che aveva inserito nei primi libri certo e poi di fatto l'ha tolto spiegando con motivazioni geometriche il fatto per cui andavano considerati soltanto gli altri la tua proposta è da verificare indubbiamente è un qualcosa infatti ti dirò una cosa quello che mi ha più colpito è il fatto come ci sono tante coppie tra i segni in cui inconce che quindi vuol dire semplicemente che la vita se ne infischia di quello che noi pensiamo ma io non ho nessunissima intenzione di superare l'Islamo Fugo non ci penso minimamente io a me è dispiaciuto soltanto che non averglielo potuto far vedere perché non c'era e quindi rimane un'incognita nel senso che non sapevo mai come avrebbe se qualcuno ne ha nel suo tema e vuole studiarli se ne trova e vuole studiarli perché no io ne ho trovati tantissimi anche secondo me che vogliono dire qualcosa un sole giove per Malala la studentessa pakistana prima Nobel per la pace ha subito un attentato ma è riuscito a sopravvivere anzi ora è un simbolo per tutte le donne che vogliono emanciparsi e studiare quindi ha avuto il sole giove qualcosa ha fatto per lei c'è questo commento di Cristina Caretta e altri commenti negativi di Gabriele e di Raffaella che evidentemente non no 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 vorrei dirvi che che insomma a livello teorico non posso non posso contraddirli nel senso che se ci atteniamo alla teoria pura quella che è spiegata sui testi sarebbe un aspetto da non considerare però non possiamo essere completamente chiusi a qualsiasi innovazione ma scusa ma vi rendete conto che nei paralleli li ha fatto lei li ha messi lei che questo è semplicemente suo sì 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 i segni in cui in conce li ha messi lei qui non è che li ho me li ha fatti vedere lei cioè questa i segni in cui in conce fanno parte della vita della nostra vita quindi a un attimo c'era un altro commento di Stefania Ducarelli anzi vedi in cui in conce la cancro il sagittario teoricamente l'una b il sagittario non ha nel cancro non lo trattamento certo infatti la vita nostra e io vi dico semplicemente mi sembra strano di essere di essere l'unico ecco brava meno male non mi pare di essere l'unica a conoscere tante persone combinazione che sono in cui in conce fra loro io sono rimasta ti giuro sono rimasta svalordita io per prima ma guarda cioè lo stupore nei miei occhi è stato il primo siamo riusciti a rinferire Monica ci senti? ciao ciao cara ora si è andato ho dovuto riavviare tutto il computer e mi sono persa l'ultimo pezzo mi spiace tanto se vuoi aggiungere anche qualcosa a te non ho sentito quello che ti è stato magari riferito nei commenti però sicuramente l'obiezione più grossa è quella del sistema duodecimale dello zodiaco che quindi va diviso negli aspetti per due per tre per quattro già col cinque se lo dividiamo per cinque abbiamo un problema che sono settantadue gradi di distanza sarebbe sempre un aspetto minore se lo dividiamo per sei sono sessanta gradi e insomma per dodici sono trenta gradi ognuno ovviamente il quinconce qui non riusciamo a farlo rientrare ecco in questa divisione dei trecentosessanta gradi del cerchio zodiacale per i vari multipli cosa dice Gravele Silvani se voglio riducere la matematica quindi questo è l'obiettione più grossa l'altra cosa che volevo dire è che comunque nei temi a parte quello di Ann Sullivan che effettivamente è particolare negli altri temi natali magari la stessa la stessa informazione viene ripetuta più volte come diceva anche da Morpurgo che in un tema natale ti riporta la stessa informazione più volte tant'è che anche astrologi non morpurgiani riescono a risalire alle stesse conclusioni talvolta a cui risaliamo noi magari usando diciamo vie diverse magari un po' più intuitive e quindi anche qua è un'informazione in più se vogliamo semplicemente volevo dire che senz'altro il tema può già dare delle indicazioni il tema di Elisa le dà benissimo le indicazioni quello che io dico che combinazione in certi temi il Queen Conce rappresenta quasi io ho detto la ciliegina sulla torta c'è un cosino in più non c'è niente ma non c'è niente c'è un pianeta che è isolato e vi trovate un Queen Conce ben venga perché quello vi aiuta sicuramente come nel caso appunto di Anne Sullivan che non altro è diventata lei una grande donna e ha aiutato a essere Ellen Keller una grandissima donna sicuramente in quel tema è diciamo effettivamente un caso molto singolare perché non ci sono altri rapporti che potrebbero spiegare questa sua abilità nel utilizzare altri sensi per far parlare le persone quindi in quel caso Ellen Keller in particolare però capisco che dal punto di vista matematico logico di Lisa Morpurgo questa tua diciamo scoperta fa discutere indubbiamente questo è bello perché comunque negli anni con l'allargarsi delle conoscenze possiamo sempre confrontarci tra di noi su nuovi punti di vista anche nuove nuove osservazioni indubbiamente posso dire anche un'altra cosa che Lisa è molto contenta se qualcuno faceva delle osservazioni e che gliele portava e lei qualche volta e l'ho sentita io dire avrei voluto pensarci io quindi per quello che dico secondo me avrebbe detto così quindi il fatto della divisione matematica eccetera eccetera sì per carità nessun dubbio però perdonatemi per me anche anche questo per me i pianeti di lì passano qualche problema possono causarlo o forse no meglio se no comunque il fatto che tra segni comunque ci siano delle attrazioni particolari questo è vero e quindi nessuno può negarlo almeno spero quindi il fatto per me è stata l'attrazione l'attrazione totale per la finché la mi aveva colpito in maniera irrazionale e poi anche Oriana Falaci non sono certo l'unica che l'ha scoperta o che l'ha amata ma neanche farlo opposto di tutte le mie ricerche io ho due donne protagoniste che ho scelto e tutte e due hanno il sonico in conce col mio vabbè non vuol dire niente non esiste per qualcuno non esiste per me sì ecco dovete che vi dica bene potremmo comunque continuare questa discussione tra tutti sulla nostra pagina facebook dove già il dibattito è iniziato vedo abbastanza vivace e ora mi sa che dobbiamo chiudere perché abbiamo l'intervento successivo e per questo dobbiamo liberare l'uomo sapevo benissimo che avrei causato mi dispiace perché per me era dovevo per forza farlo vedere ecco mi sentivo di doverlo mi sembra che il queen coach mi batta e dica voglio voglio uscire ecco basta così grazie comunque per chi grazie a te e a rivederci a fra poco a tutti quanti a fra poco grazie grazie grazie